Ragazzi questo speciale è stato registrato al raggiungimento di 10.000 iscritti Sono un po' a ritardo, lo so, stiamo già per raggiungere anche i 12.000 iscritti Spero in ogni caso riusciate ad apprezzare questa specie di parodia Ma soprattutto, spero riusciate ad apprezzare il mio coraggio Capirete presto perché Sostenetemi con un mi piace e buona visione Non lo sai perché cos'ha questo video? 10.000 Salve a tutti ragazzi, sono sempre benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Oggi video importantissimo Perché ragazzi, come leggete dal titolo, questo è lo speciale per i 10.000 iscritti Cioè ragazzi 10.000 iscritti Questo dopo i 1.000 iscritti è credo il secondo obiettivo che chi fa video su YouTube vuole raggiungere Poi dopo ci sono i 100.000 iscritti ma quelli chissà se mai esisteranno nel mio canale Allora ragazzi, oggi siamo qui per una challenge che su YouTube Italia probabilmente così specifica non si è mai vista È stata una sua idea Non è un semplice truccarsi quello che facciamo oggi Ma è qualcosa di più complicato e probabilmente anche di più cattivo Potresti piangere Quindi eyeliner ragazzi Quindi rischio proprio di infilarmi dentro tutto il pastello Poi non so cosa, un pennarello Più mascara Mi ridicolizzo così proprio E spero che i miei genitori non vedano questa cosa perché potrebbe essere veramente compromettente Piega I occhi Che è successo? Sono già morto Si Allora ragazzi In un occhio farò uno stile con eyeliner e nell'altro occhio farò un altro stile Diversi disegnini Comunque direi che bando alle cianci ragazzi Questo speciale di 10.000 iscritti Puoi cominciare E vai E tu te ne vai Mi lascia così da solo Direi di partire con l'occhio sinistro Con lo stile classico È impossibile Io non ce la farò mai Ma è impossibile Non ce la farò mai Cioè ho fatto così una prova Ormai me lo infilo dentro Dov'è l'occhio? Oh No ma mi sono colorato Il dito Ah No me lo sono infilato dentro Brucia Così Io credo Di farcela No ragazzi è impossibile Ma come fate voi donne O anche maschi Che ce lo vogliono mettere Come è possibile Ok Va bene Diciamo che No ragazzi mi brucia troppo Sembro Platinette Che c'è Passiamo all'altro occhio E cercherò di fare una cosa ancora più difficile Quindi È un paradosso Non sono riuscito a fare questo Figurati la cosa più difficile Dovrebbe essere La coda di pesce Giusto Fishtail Sì La coda di pesce Eeeh Shish Una riva così che esce E poi un'altra in giù Però questa è pericolosa Perché devo entrare un po' dentro Non è un rivale però fino alla tempia Io potevo fare anche una roba tipo così Vero Allora qua cerchiamo di essere un po' più cauti e precisi Ma non colora Piano piano Segui la riga Che riga? Dell'occhio così Niente sono andato La tempia Vabbè però qui ho fatto un numero incredibile Oddio c'è un colpo di scena Ragazzi questa però è fantastica Questa è fantastica Bellissima Eh vale ma metteci tutto il dito sopra Ok però qui ci sono ancora delle parti Delle parti morte Oddio Delle parti senza eyeliner Eyeliner Guarda gli stocchi Gli eyeliner Dai 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 Manca la parte di sotto E devo fare una specie di coda di pesce Devi partire un po' da dentro Un po' da dentro Ma io qua rischio veramente Dai non piangere Di decedere Più dentro Più dentro come faccio Qui proprio è la cicina Guarda ma senti che Oddio Salvatemi Perché ha voluto fare questa cosa Sto male No Ho sbagliato Sono andato un po' troppo Ok Ci sta no? Ma voi chi ve l'ha insegnato a fare questa cosa? La pratica La pratica Ma la prima volta facevate una roba del gender O veniva un po' meglio? Questo è bello però eh Beh quello è sexy Questa è bellissima ragazzi Che brutta figura che sto facendo Mamma mia Passiamo al mascara Cosa devo fare qua? Allora io Intingo il pennello Cavo questa parte qui Bravissimo Chi te l'ha spiegato? Ma lo so io È mia esperienza Oh E poi cosa devo fare? In su Così? Sì ma non ti devi macchiare Ma io non so neanche cosa sto facendo Com'è? Brutto Non so che faccia sto facendo eh Non so ma Basta non fare i danni A posto? Ma dai che cigliona Come sono? Una figlia Ciao Non la toccare che tu sei nero Sei razzista? No Per caso? Dita scemo Allora direi che questa Questa è una vera challenge Cioè questa è una challenge ragazzi Una parodia diciamo così Di quello che fate voi Ma io purtroppo Non sono veramente capace Ovviamente Ovviamente non sono veramente capace Direi che il video Può finire qui Molto semplice Molto casereccio Niente di particolare Cosa c'è qua? Cosa c'è? Pensa che lei ce l'ha E ce l'ho anche io Ma Diciamo che i risultati Non sono proprio gli stessi Spero ragazzi che Vi siete divertiti a vedere questo video Io mi sono divertito a farlo Mi brucia ancora un po' l'occhio sinistro Perché probabilmente è entrata troppo schifo Nell'occhio Spero veramente vi sia piaciuto Ragazzi lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Noi ci vediamo ad un prossimo video Sempre sul mio canale Mi raccomando ragazzi Alla prossima Ciao a tutti Cosa c'è? Fatti vedere Cosa c'ho? Meglio Vai Oh brucia Vabbè Direi che oggi Di figure di me Te ne ho fatto abbastanza